Ciao ragazzi, bentornati nel nostro canale e oggi per la prima volta per andare a Padova ci sarà anche mio fratello in una gara che non si è adolgiata. E poi facciamo un'altra ora e mezza per andare a Udine, a Rivignano, a fare il circuito italiano, domenica, perché hanno riniziato. Io però preferivo quando c'era solo una gara. E poi la settimana dopo avrò il campionato italiano, a Padova. Ciao ragazzi, vediamo fra un'oretta e mezza. Ciao. Saluta. Ciao. Eccoci arrivati a Rivignano. Cri, sei pronto allora? Sì. Come va? Tutto bene? Hai già fatto disperare il papà? No. Ecco qui Edo con le sue belle sedie per poterci sedere. A posto ragazzi, andiamo? Salutate tutti. Ecco la pista. E due…. Min situazione è la pista. Grazie a tutti Grazie a tutti per la partenza della sua prima batteria che abbiamo lì aperto il leader Grazie a tutti 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 Grazie a tutti